Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo l'unboxing della Lego Disney di Topolino Ah, ora fanno la Lego Disney di Topolino Esattamente, e abbiamo deciso di fare l'unboxing di Lego Topolino Pompiere Mitico questo gioco Optimus Già, vuoi dirlo forte Ah, iniziamo a vedere cosa c'è dall'interno Va bene Allora, all'interno troviamo quattro personaggi Topolino, Minnie, Pippo e Pluto La caserma dei pompieri Le cose che vanno in fiamme Il camion dei pompieri E qua abbiamo le istruzioni per vedere come si costruisce Andiamo prima a montare i personaggi Quanta roba abbiamo trovato Iniziamo a montare, dai 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 Vabbè, prima vediamo questi libretti Queste sono le istruzioni per costruire E inoltre dobbiamo prima montare il personaggio E poi monteremo la caserma dei pompieri Ecco qua i nostri quattro personaggi Uh, che figo però Mi piace molto in quei modi che Che ricostruiscono la Disney Già, sono più belli Comunque cosa manca? Dobbiamo montare la caserma dei pompieri E poi faremo vedere tutto Come abbiamo fatto Ok Dai, dai, mettiamoci all'opera ragazzi Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Ok Dai ragazzi, mettiamoci all'opera Abbiamo capito Ecco qua ragazzi Un capolavoro E ora facciamo la carrellata Ecco qua ragazzi La caserma dei pompieri di Topolino Finisce qui Eh sì Bene ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando Spero che la caserma dei pompieri di Topolino Con quattro personaggi Iscrivetevi al nostro bellissimo canale YouTube E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti